Io mi chiamo Simone e sono di l'informatica di Parma, un servizio gratuito agli anni 35 e come dice il nome stesso è principalmente informativo e specificatamente anche orientativo nelle scelte. Cerchiamo di dare il più possibile le chance di poter decidere ai neodiplomati e anche ai neolaureati di cogliere le opportunità sia di lavoro che di formazione che il nostro territorio offre. Lascio parlare, Rossella in particolare, della nostra collaborazione e di cosa parla questo progetto in specifico. Ok, grazie mille, Simone. Sì, allora mi presento anch'io, sono Rossella Lombardozzi, sono digital promoter del punto impresa digitale della Camera di Commercio di Parma e appunto mi trovo qui insieme a Simone in forma giovani perché diciamo questo di oggi è uno degli appuntamenti che rientra dentro questo progetto che abbiamo elaborato e promosso insieme che si chiama Working Future, competenze e lavori del domani. Non so se chi ci sta seguendo adesso ha visto, nelle scorse settimane abbiamo pubblicato diversi contenuti, Randy Reels in particolare sulle competenze green e facevano parte anche loro di questo progetto che di fatto è un progetto di comunicazione, un linguaggio che arrivi il più possibile ai giovani, quindi quello dei social fondamentalmente, sulle competenze richieste dalle aziende nei prossimi quattro anni attraverso diciamo la diffusione così un po' in maniera alternativa ai giovani, che non così comunque che arrivi ai giovani, dei dati del report del sistema Excelsior che diciamo sempre fa parte del sistema Union Camera Nazionale e quindi una maniera di far arrivare le informazioni ai diretti destinatari, quindi giovani diplomati, laureati o neolaureati che vogliono inserire sul mercato del lavoro e quindi grazie a questi report possono orientare in maniera più specifica la propria professionalità e formazione sapendo diciamo quali sono le previsioni da qui al 2025 di fatto rispetto alla richiesta delle aziende, dei profili e delle competenze appunto. Quindi questa intervista si inserisce sempre in questo contesto di working future proprio perché la persona che andremo a intervistare, il nostro ospite, è uno dei rappresentanti diciamo di quelle che sono tra le competenze più richieste dalle aziende e in particolare le competenze green. Scusa ho parlato troppo, non so quanto ho parlato forse un po'. A proposito di ospite direi che è il momento di invitarlo a partecipare. Direi di sì che è giunto il momento. Seguendo, adesso lo invitiamo, sentendo dalle sue parole chiaramente il tipo di competenze che ha, su cui ha investito e che in effetti sono richieste senza dubbio è utile. Buon dì. Sì, eccoci finalmente Nicola. Se l'abbiamo fatto. Arrivano un cambio di cuffiette che a quanto pare sono scariche le altre. Dovresti sentirmi bene stesso. Sono sempre cariche quando servono. Esatto. Io ti sento Nicola, piacere, molto piacere. È un piacere ragazzi essere qui oggi. Piacere è un ritorno in verità. Senti un ritorno? Sì. Cavoli, io sento bene. Prova adesso? Ho abbassato il mio volume. Credo sia Simone che non avendo le cuffiette ci fa il ritorno. Può essere? Ma mi sembra strano, non mi pare però. Io non lo sento. È solo io, vabbè, allora ci conviverò nessun problema. Se qualcuno che ci sta sentendo adesso può darci conferma se sente il ritorno. Io sento l'obbillissimo. Proviamo ad andare a mano. Non c'è nessun problema, non c'è niente. Ok, ora non lo sento. Perfetto, tra l'altro. Ok, bene. Meglio così. E lascerei direttamente la parola a te Nicola chiedendoti di presentarti, insomma, di dirci un po' chi sei e raccontarci un po' la tua storia. Sì, volentieri. Mi sono perso un piccolo pezzettino dell'introduzione che avete fatto, però vado diretto al punto. Io comunque sono molto giovane, quindi oggi da quello che ho capito c'è un pubblico altrettanto giovane che ci ascolta, o comunque che vedrà questa diretta. Io sono un studente di ingegnere ambientale al Politecnico di Milano e poi, vabbè, lavoro qui sui social, tratto i temi della sostenibilità principalmente. Sicuramente il tutto è iniziato un po' di anni fa, quando la sostenibilità non era così tanto un trend, quindi all'inizio ero anche una persona outsider, cioè nel senso che comunicavo qualcosa che non era normale sentire e quindi perché prima il cambiamento climatico sembrava così lontano, oggi ogni tanto arriva qualche evento estremo che tanto estremo non è e quindi ci tocca un pochino più nel profondo dell'animo. Ovviamente per poter parlare di queste cose bisogna avere una determinata formazione professionale o comunque scolastica universitaria che appunto non può, perché è un tema che non può essere trattato in modo banale, ecco qui. E quindi è iniziato il mio percorso da studente di ingegneria e ovviamente ingegneria non è una facoltà semplice e quindi poi il tempo che la comunicazione richiede è tantissimo qui sui social e bisogna cercare di incastrare un po' le due tematiche, i due aspetti. Penso che più o meno come introduzione di cappello di quello che mi occupo più o meno ci siamo, poi piano piano uscirà un po' tutta la natura del lavoro. Sennò mi faccio un monologo più che altro e non mi sembra il caso. Vado io Simone così entriamo un po' più nel concreto, nel profondo diciamo di Nicola come role model così che abbiamo definito comunque persona che potrebbe insomma dare delle ispirazioni proprio perché hai detto anche tu che sei giovane tu stesso diciamo anche in un linguaggio così un po' senza filtri, non tanto istituzionale, perché comunque ricordiamo che Camera di Commercio è una delle istituzioni per eccellenza che ha voluto diciamo ecco entrare nel vivo dell'utilizzare un linguaggio diverso per arrivare in maniera più diretta. E ti faccio questa domanda, dato che ci hai introdotto un po' al tuo percorso e alla tua scelta di carriera di studi accademica, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a scegliere ingegneria, che poi tu hai detto ingegneria ma non so se l'hai detto ma no ambientale comunque con indirizzo, cioè un tipo di ingegneria specifico è proprio appunto che immagino ti darà le competenze per parlare del tema. Come dicevi tu prima, adesso è estremamente attuale ma magari qualche anno fa non era così scontato, non era così. Esatto, come hai tempo, adesso poi in realtà sei giovane ma se vuoi anche dirci quanti anni hai nello specifico puoi farlo, cioè come mai hai pensato di intraprenderlo e poi quali sbocchi professionali avrai pensato a un qualcosa quando hai deciso di scriverti a questo. Certo, certo, allora partiamo dal presupposto che io sono stato uno studente di vicio classico quindi la mia matrice era anche diversa da quella che poi, da quella che è poi la stata che ho intrapreso e detto ciò io ero piccolino quando ho scelto ovviamente e la mia, l'idea di poter attuare un cambiamento ma in modo pratico perché io venivo da qualcosa che era molto teorico. Il liceo classico ti insegna tantissimo a studiare e poi se tu sei una natura, di natura come si dice intraprendente concretizzi anche tantissimo però volendo ti insegna a dialogare diciamo così e a studiare sui libri lo metto in dubbio. La matrice scientifica è quella invece che ti dà la possibilità di concretizzare il tuo lavoro ovviamente e quindi io era diciamo che sono andato a cercare un pochino quel punto di vista lì. Poi io nasco in un paesino campano di stampo molto naturale, cioè nel senso parliamo di una realtà piccolina, il mio contatto con la natura c'è stato fin da piccolo quindi la mia idea poi di concretizzare era appunto in prospettiva di qualcosa che avesse a che fare con l'ambiente. Quindi una sensibilità ambientale già di partenza sia chiara. In nata. Esatto. Poi la verità, la mia scuola che si chiama scuola di ingegneria civile ambientale fa parte delle scuole di ingegneria però appunto è un ramo a sé stante. Noi lavoriamo, cioè noi studiamo materie, a parte quelle base che si trovano nel percorso più o meno di tutte le ingegnerie che sono analisi 1, 2, fisica, informatica perché noi dobbiamo imparare anche a programmare e a muoverci con gli algoritmi, i modelli di programmazione. Ovviamente poi c'è lo specifico settore. Il civile sa trattare molto l'ambito delle costruzioni all'interno del, e qui i miei colleghi civili alzeranno le orecchie e i capelli, in ambito cittadino urbano e noi verosimilmente lo facciamo con aspetti un po' più mirati nell'ambiente. Penso, la diga del Vaiont è stato l'evento in cui è nato tra virgolette l'ingegnere ambientale perché prima non c'era questo aspetto così tecnico di come si comportava la natura e che effetti poteva causare e a quel punto è nata la nostra figura. Noi studiamo la terra ma anche il movimento che ha un edificio all'interno della natura stessa e quindi banalmente, se vogliamo parlare in parole semplici, studiamo di come si costruisce un pilastro però poi come va costruito all'interno dell'ambiente naturale e quali sono le sollecitazioni che deve reggere. Una diga è l'esempio lampante di quello che va a costruire, a monitorare un ingegnere ambientale. Poi ci sono... La diga che in effetti tecnicamente ha retto, non era il problema la diga in sé, era tutto vero. Esatto, la diga a livello di costruzione anzi ha retto pure fin troppo se vogliamo dirla così. Il punto è stato che non era mai stata considerata una frana di così grandi entità e quello era il punto di vista geologico. L'ingegnere ambientale fa un po' da tramite tra l'altro, infatti questa è la cosa bella che noi sappiamo, dobbiamo spaziare su varie tematiche e quindi noi dobbiamo saper dialogare con un geologo, dobbiamo saper dialogare con un architetto, dobbiamo saper parlare con un ingegnere civile e quindi dobbiamo sapere anche proprio le costruzioni, c'è un esame, ci sono due esami, scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni che ti insegnano poi anche le forze con cui si bilanciano gli edifici eccetera. Poi ovviamente in base a quello che uno sceglie c'è anche inquinamento delle acque per dire, quindi noi andiamo a vedere l'inquinante da dove arriva, dove si propaga, che effetti ha, oppure questo nell'acqua ma l'inquinante ovviamente può essere anche in atmosfera, ma è come in questi periodi si parla di CO2, di ppm, quindi il particolato nell'area, insomma questi controlli può essere, se parliamo di prospettive del futuro, del lavoro, può essere tranquillamente un operatore che prevede e gestisce appunto questi tipi di dati qui. E' chiaro, direi che l'hai spiegato in maniera molto chiara e anche concreta che cosa, quali sono gli sbocchi professionali ma anche quali sono le mansioni effettive. All'epoca non era così chiaro, sia chiaro, c'è un partito con un po' di dubbi, però poi ovviamente chiambiamo le cose a riportare e condividerlo per chi ancora non conosce, insomma già avere la strada schianata o comunque qualche indicazione da chi l'ha già fatto è senz'altro utile. E da quello che mi dici è anche molto importante la trasversalità del tuo ruolo, di fatto è sì un sapere molto specifico ma che tocca tanti ambiti, tante sfere. Allora io parlo proprio per la scuola di chi frequento, ovvero il Politecnico di Milano, il mio corso è stato creato tra virgolette per essere polifunzionale e quindi avere una formazione, semplicemente noi studiamo Fisica 1 e Fisica 2 che magari in determinate, e sono due esami corposi, cioè parliamo di 18 crediti se vogliamo parlare proprio in termini CFU, che tante ingegnerie non hanno ad esempio, perché? Perché noi la Fisica fondamentalmente ci circonda come una forza si muove in natura, dobbiamo effettivamente riconoscerlo e saperlo e quindi a quel punto parliamo di trasversalità del nostro lavoro anche in ambito formativo. come appunto dicevi tu Simone. Chiaro, 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 ti ringrazio. Parlando di competenze, in particolare due sono molto spesso citate e credo abbastanza centrali, senz'altro l'aspetto green, questo hai già parlato, ma quello che unisce anche l'aspetto digital, anche questo è estremamente quotato spesso sia nell'ambito lavorativo sia appunto nell'ambito formativo. Quanto, che ruolo hanno diciamo nella, in quello che fai? E qui facciamo il passo indietro, cioè nel senso che torniamo a quella che è stata la mia formazione iniziale, quindi quella del liceo. Vedi che torna sempre utile il liceo classico, sì. Esatto, cioè nel senso io sono stato sempre uno che aveva voglia di parlare, cioè io già al liceo ho fatto il rappresentante di istituto, insomma non sono uno che si sta, che sta molto indietro, mi piace stare in prima linea, ma perché mi piace dire la mia? A volte a dire la propria idea si sbaglia anche, però insomma sbagliando si impara, questo è il detto. Comunque, la comunicazione ovviamente, l'ambito della comunicazione e del marketing a noi non ce lo insegnano. Io ho fatto un corso sempre al Politecnico, perché poi il Politecnico è un'università d'eccellenza, proprio perché ti permette di poter creare e andare a mettere dei focus su quelli che sono i tuoi interessi. Io ho fatto un corso di comunicazione l'anno scorso, però ho iniziato a lavorare su Instagram quattro anni fa, quindi è stato un po' un corso tra virgolette di perfezionamento per la divulgazione scientifica, che è qualcosa di diverso, ora ci arriviamo. L'ambito della comunicazione, io ho iniziato a parlare su Instagram non di cambiamento climatico, proprio perché non era un tema centrale quattro anni fa, ho iniziato a parlare di modo sostenibile, che è quello che interessa a noi tutti i giorni. Quindi ho iniziato il mio studio, perché a quel punto lì è uno studio personale, tant'è che io ho fondato anche una start-up legata alla moda sostenibile che poi due anni fa ho venduto, però io sono partito dalla moda sostenibile, mi sono informato in quello, ho trovato un po' di falle, non a caso la moda è uno dei settori più inquinanti al mondo, e allora ho fatto, a parte a concretizzare sempre che, come dicevo, è quello che mi piace fare, quindi la start-up. A quel punto ho iniziato a capire, a cercare di capire in verità, come poter comunicare questa cosettina qui sui social, e quindi poi il feedback anche con la community, che è stata una formazione costante, fondamentalmente, e poi nei vari anni io ho iniziato a capire, a cercare di capire come poter comunicare qualcosa di un po' più complicato, se vogliamo parlarne così. L'anno scorso e gli eventi, i fenomeni, quando si concretizzano è sempre più facile fare. L'anno scorso c'è stata una nevicata a Milano, non come quella giustificata di questi giorni qui, ma a febbraio, a marzo, che rappresentava un fenomeno di strat-warming. Quello lì è un fenomeno molto complesso, dove, insomma, per dei vortici ventosi, l'area che sarebbe dovuta essere al polo nord, arriva da noi in Europa, quindi è un fenomeno estremo che non dovrebbe capitare. A quel punto lì io l'ho raccontato, e in quel caso lì, ovviamente, lì poi si manifestano le competenze di comunicazione con qualcosa che è un po' più importante. Poi la verità è che sui social queste competenze di comunicazione, come al solito vuoi essere trasversali, tu devi imparare ad essere diretto perché in base alla tua community, in base alle persone che hai di fronte, devi veicolare il messaggio. Lo fai complesso, lo fai semplice, in base a quello di cui stai cercando di parlare. Spero di aver risposto alla tua domanda perché poi la comunicazione per me era qualcosa di un può strato, cioè sembrava più concreta ingegneria, ma in verità è tanto importante anche la comunicazione. E infatti, bene o male, poi in tutti i settori c'è bisogno di sapere anche comunicare quello che si fa, se no poi le altre persone non lo comprendono. Assolutamente sì. Sono d'accordo con te, la parte comunicativa, che è peraltro quello di cui mi occupo, quindi insomma conosco l'argomento, è centrale, nel senso che fare semplicemente una cosa a volte non è sufficiente. Spiegare perché viene fatto, spiegare perché nel tuo caso accade una determinata cosa, ha un grande valore sociale, senza dubbio. Esatto. Sì, grazie mille veramente Nicola perché comunque da una tua risposta, almeno io ho colto, spero che anche chi ci sta ascoltando l'abbia fatto, tantissimi spunti perché sei molto chiaro e anche tu che anche altre aree rispetto a quello che era magari inerente la domanda nello specifico e quindi sì, sono comunque esperienze le tue molto interessanti. Ti chiedo a questo punto e ricordo anche, appunto dato che l'ho detto, a chi sta seguendo, che può fare domande ovviamente in chat perché dopo quelli leggeremo alla fine, non per fare così l'avvocato del diavolo, ma c'è stato, diciamo dici un aspetto positivo che un po' l'hai detto, perché mi sembri entusiasta di quello che fai, poi questo sfondo con le montagne, i lupi, la pianta, la cartolina, è un aspetto positivo e un aspetto negativo del tuo percorso di studi che se non sbaglio stai terminando, comunque sei ancora in corso e anche quello lavorativo, magari appunto sia dell'ingegnere ambientale in senso stretto che poi del comunicatore green perché poi questa doppia, o avrai, quando ti lavorerai questa doppia valenza, non so se si potranno coniugare le due cose, però di fatto sono due lavori anche diversi, come hai detto tu, uno si basa sulla comunicazione e l'altro sulla scienza e la tecnica, che poi si andranno ad integrare per forza, ecco, però un aspetto positivo è certo infatti. Sì, se no lo porterei avanti. No, allora, verosimilmente quello che è il mio percorso di studi al momento punta a, questo era un po' complicato, però i sistemi di previsione, quando parliamo nei scenari di cambiamento climatico, per esempio, non so se avete in mente questa immagine dove ci sono sette, otto linee che ti dicono in base a quello che metteremo di CO2, potrà succedere questo, 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 ok? Per fare queste linee qui bisogna prevedere le cose, bene o male, no? Noi parliamo di previsione a 50 anni, diremo nel 2100, nel 2050, a livello ambientale potrebbe accadere questa cosettina qui, ok? Quello è quello che faccio in università. Modelli di previsione che sono cose condense ovviamente, perché parliamo di parametri e più andiamo avanti i sistemi ambientali vengono chiamati soft path, perché diventano sempre più complicati, ovviamente, perché un evento estremo che prima si verificava ogni o una o due volte all'anno, oggi si verifica 50 volte all'anno, quindi quel parametro lì va, cioè, quell'evento lì va analizzato sotto molti più parametri e immagino il rilascio di una diga va considerata non soltanto quanto grande era la piena naturale prima e quindi io cerco di replicarla, ma va considerato magari anche l'evaporazione, che oggi col cambiamento climatico la temperatura aumenta e quindi c'è più evaporazione, insomma, vari parametri, non so, quelli dell'incarri, però quello lì è ad esempio quello, e per fare questo ovviamente torniamo all'informatica 1 del primo anno, perché bisogna sapere usare i linguaggi di programmazione, sembra comunque una cosa complessissima, però se uno ha voglia di perdere tempo sui libri e si appassiona, perché poi ingegneria è veramente, devi innamorarti di quello, e ti dico che a volte non è semplice, perché non siamo tutti perfetti, io qui su Instagram quello che faccio è far vedere tante volte anche le mie fragilità, perché? Perché se no uno pensa questo qua fa l'influencer, fa ingegneria, ma come fa nella vita? No, infatti a volte non ce la faccio, cado, crollo, mi rialzo, e da lì si impara. Unito ovviamente alla comunicazione, quello che mi piacerebbe fare a me è essere una via di mezzo, diciamo così, stare nel centro e poter dialogare con un studio di ingegneria, con un'azienda di ingegneria che teoricamente o si affida a un ufficio di comunicazione, che però non ha le mie stesse competenze, perché ovviamente ha una formazione diversa, oppure potrebbe magari volentieri affidarsi a una persona come me, che ha quel background universitario e quelle competenze tecniche, però negli anni ha sviluppato anche qualcosa di trasversale, che è appunto provare a comunicare queste comanzioni, questi aspetti a un pubblico più ampio. E questo è il motivo del corso durante gli studi universitari, del corso di formazione per la divulgazione scientifica, che comunque viene fatto al Politecnico, che è di matrice appunto scientifica, però ti dà quell'input in più e poi vabbè, noi lavoriamo qui ogni giorno sul campo, in frontiera, se si può dire così, dove gli input sono tanti, cioè io tante volte sono cresciuto con la mia community perché tante cose che io do per scontato, in verità scontate non sono, e quindi arrivano le domande, ma come si fa questo, come si fa quell'altro? Poi vai a sfociare su 150 argomenti, tipo siamo sotto Natale, cosa posso fare di sostenibile come regalo? Ok, lì è informazione mia personale che mi metto davanti al PC e provo a capire quello che si può fare, che diciamo potremmo fare un po' tutti se abbiamo voglia di, ma lì è un'altra questione. Però quando sono in strato di domande un po' più tecniche, settoriali, lì si apre un mondo. Ascolta, come aspetto negativo comunque migliorabile di tutto questo tuo percorso, perché appunto l'aspetto positivo, se ce n'è perché magari al momento è tutto, dato che è tutto work in progress, che tu sei nel pieno di questa ondata e quindi è come hai detto te, hai diciamo… Basta uno, sì, te ne dico uno, che ha molto a che fare con la comunicazione e come le persone vedono il lavoro che fai, perché o sei in alto, che sei il professionista del turno, ok, e quello è il caso in cui magari c'è la persona che ti segue e quindi lo pensa già, ad esempio io quest'estate ho fatto volontariato a Lampedusa, con me c'erano dei ragazzi che mi seguivano, io ho portato le persone, loro mi stimavano come persona e sei app, ma tante volte quando tu ti confronti con una persona e dici quello che fai, e vabbè fare quello che fai tu ci vuole niente, e questo è l'aspetto negativo, perché sui social, poi è brutto da dire, c'è di tutto e li chiamiamo tutti influencer quelli che sono sui social, che hanno una community grande, però c'è influencer, influencer, divulgatore, e divulgatore, comunicatore, comunicatore, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'aspetto brutto, che tante volte... Ma prima servo a queste specifiche, non si può semplicemente parlarne e improvvisarsi. Tematica è tematica, io onestamente sui social seguo solo persone competenti, cioè quella persona che io penso che è la Bibbia nella moda sostenibile, seguo lui, seguo quella persona che è creativa, mi dà ogni giorno dei spunti su riciclo creativo, c'è un'altra persona, un blogger che mi dà un'alimentazione settoriale, però seguo per pressionisti, poi è ovvio che se tu usi i social in un altro modo, l'influenza di cui parli tu non è l'influenza che parlo io. Il problema rimane sempre un po' il canale, lo strumento che fisiologicamente è nato per raccogliere tutta una serie di contenuti, quindi o ti inventi un social per solo i professionisti, però voglio dire... No, no, la cosa bella è poter arrivare anche a persone che non, diciamo, non volevano quel contenuto, questa è la parte bella. Ovviamente, quando poi, perché poi lo dimostri, cioè nel senso, io ti faccio sempre esempio di Lampedusa di quest'estate, due persone con me che mi seguivano mi stimavano già, a quel tavolo lì eravamo in 15, altre 13 persone dicevano, vabbè, questo qui è quello che se la tira l'influenza. Dopo una settimana, in verità, sono bastati due giorni per capire che io non ero lì per fare l'influenza e tirarlo, io ero lì per fare volontariato nel centro di tartarughe marine e far passare questo concetto a tutti i 20.000 fiori che mi seguono, che è una cosa molto più bella, proprio più ampia, sicuramente, esatto, e tu lo dimostri subito, quindi sarebbe da smontare, tra virgolette, un po' questo preconcetto. Ah, lì credo che sia difficile. Riprendo anche un commento che è arrivato dalla Visit Parma, c'è anche l'idea sbagliata del tutto e subito, in cui la ricerca del successo, tra virgolette, è l'unico obiettivo. Quindi, diciamo, il mondo social credo che sia purtroppo anche, diciamo, il rovescio della Italia, no? Vedo una luce di speranza, perché negli ultimi anni, io ho iniziato a fare questo lavoro quattro anni e mezzo fa, e negli anni sono cambiate delle cose. L'anno scorso un'azienda, un brand, o chi che sia, prendeva dei talent, ci chiamiamo così a volte, prendeva dei talent e faceva un po' un calderone. Oggi, invece, la cosa cambia molto. Io prendo lui perché lui parla in questo modo, lui ne sa. Oppure lui non mi dice cose al vento. Quindi trovi comunque che ci sia un riconoscimento maggiore rispetto a qualche anno fa. Sono stesse le aziende che piano piano iniziano a capire, io voglio comunicare con lui, non voglio comunicare con il ragazzo X che comunica. Più che altro ha un indirizzo diverso, cioè lui serve a un'altra cosa, oppure lui fa un'altra cosa. Quindi, in base a quello che io voglio ottenere, cerco la persona giusta. Ecco, questo qui è l'evoluzione che iniziamo ad avere. Ti dico la verità che funziona molto meglio perché prima mi trovavo a lavorare con aziende che mi chiedevano di fare qualcosa che non era per niente in linea con quello che dicevo io e lì sei proprio, ma cosa sto facendo? Cioè, io ma io faccio tutt'altro. E a quel punto non accettavo, infatti, perché figurati. Perché poi c'è una cosa che ci contraddistingue e parla al plurale perché questo, ci metto la mano sul fuoco che capita a tutti i miei colleghi e colleghi, perché sono molto più le donne che lavorano nell'ambito sostenibilità, noi rifiutiamo quasi tutto quello che arriva perché oggi c'è un fenomeno di greenwashing, delle aziende puntano al green senza fare niente e noi rifiutiamo tutto, cioè la maggior parte. Facciamo un lavoro di selezione. Come si suol dire, che di per sé può avere anche una connotazione positiva, nel senso che c'è una maggiore sensibilità, ma andando di moda poi di tutta l'erba un fascio, immagino. Cosa che non facciamo noi. Infatti, noi, questa grande famiglia di talent, influenze divulgatori, una sostenibilità, lavoriamo tanto anche prima di lavorare con il cliente perché facciamo tutta una ricerca. È una questione d'amore, un po' come l'ingegneria, cioè dei piacenti, perché il lavoro è tanto e non lo metto, non lo nascondo questo. Ok, Nicola, grazie. Ti chiedo, e poi dopo ci sono delle domande volentieri, ti chiedo una conclusione, un po' la chiacchierata che abbiamo fatto. chiedendo consiglio a neodiplomati o magari già laureati che vogliono, diciamo, una caratteristica che mi è piaciuta molto nel tuo racconto è la tua personalizzazione, perché non hai semplicemente scelto una strada. Un po' te la sei costruita, te la sei costruita addosso, te la sei un po' cucita addosso perché hai aggiunto alcune cose che magari come il corso di marketing manualmente, ti sei fatto un percorso, che tipo di consiglio daresti per chi deve prendere una decisione in questo settore o comunque in genere per chi deve capire che cosa fare, per grande, si dice, no? Ma il mio consiglio è un po' quello che stai dicendo tu, nel senso, io ho iniziato un percorso un po' alla cieca, un po' come tutti i ragazzi, perché ovviamente se una cosa non la vivi puoi immaginarla, però poi vivere è diverso. E poi piano in piano uno si mette dentro, cioè si veste con gli indumenti che gli piacciono di più, quindi se ti piace quel particolare lì, legato a quell'aspetto lì, io me lo vado a prendere, perché secondo me questa è l'età giusta per poter prendere tutte le cose che ci piacciono e formarci da questo punto di vista, cioè nel senso, io tante volte mi provo a parlare con i miei colleghi, con i tani, eh ma io faccio l'università, faccio quello, allora io sono del parere che per me puoi metterci anche un anno in più, non va, cioè il mondo va velocissimo e io faccio parte di quel mondo che va velocissimo perché faccio tante cose, ma la verità è che faccio tutto quello che mi piace a me, ripetiamo, a volte si cade, è naturale, però fa parte della vita, perché quando tu cadi ti rendi conto di quello che hai sbagliato, allora dici forse sto facendo troppo o se sto facendo qualcosa di sbagliato, lo cambio, però la verità è che tutto quello che ti piace, poi piano piano lo metti dentro, cioè io domani, io mi sono iscritto all'università pensando di andare a fare le dighe, a costruire le dighe, oggi ti dico, io voglio parlare con quello che le dighe già ha fatto, perché le dighe già esistono, non c'è più bisogno di costruirne altre, almeno cosa facciamo? Le rendiamo più efficienti, punto primo, e poi cosa facciamo? Dobbiamo parlare con il consumatore, la diga mi libera acqua, io devo saper dire a chi beve acqua che deve iniziare a bere a casa propria, e come faccio? Devo imparare a capire come parlare con lui, cioè io ho pensato questo, cioè il punto non è a monte, non è la diga, il punto è a valle, il problema è a valle, viene comprata l'acqua in bottiglia, non si può bere, non si può, cioè se noi abbiamo delle istituzioni, delle aziende ingegneriste che ti liberano l'acqua in montagna, te la depurano in città, e devi arrivare a capire alla fine del processo perché non usiamo l'acqua, perché non beviamo l'acqua del rubinetto, quindi io semplicemente è questo, cioè tu capisci come funziona sopra, perché poi io sono un curioso, capisci come funziona sopra, nel mezzo alla fine di tutto diventi polifunzionale, che tante volte ti dicono è un aspetto negativo perché noi vogliamo quella persona selezionata X che sape fare solo quello, io non sono così, io sono colorato, sono un arcobaleno, se volete il nero e il grigio, il nero e il bianco lo trovate da altre parti, a me piace essere tutto questo perché nel mentre io vivo, vivo di emozioni, di sensazioni e quando tante volte le aziende ti dicono no, non farlo, io poi sono inesperto da questo punto di vista, cioè la mia azienda ad oggi sono io stesso perché i lavori arrivano a me e non ho superiori, però domani quando mi legorò ad un'azienda perché dovrà avvenire questo processo, io vorrò fargli vedere tutti i colori perché la potenzialità di un elemento è lì, è nella creatività anche, tante volte magari uno pensa che deve essere scienziato, ingegnere senza creatività, invece no. Grazie Nicola perché hai toccato veramente dei punti molto importanti e attuali assolutamente, quindi che adesso sì, per chi ci sta ascoltando e dopo leggiamo i commenti, cioè al di là dei percorsi tracciati, diciamo tradizionali, bisogna è necessario anche un po' uscire dai margini che vengono delineati anche solo da un percorso di studi, anch'io come esperienza ho sentito molti pareri simili a quelli che hai detto, no, dei tuoi coetanei che dici sì ma io sto studiando, sì ma io sono qua, quindi uscire un po' dall'involucro, no? Ma nel senso che secondo me se ci metti quel semestre in più, quell'anno in più perché stai facendo mille altre cose che sono funzionali al tuo benessere, perché poi parliamo del benessere, cioè l'università a volte ti toglie il respiro perché puoi fare cose che non tutti gli esami sono belli all'università, sia chiaro, cioè dobbiamo essere anche realisti, quindi se tu nel mentre ci metti qualcosa che ti piace molto e allunghi un po', non fa niente, cioè io sono di quell'ottica lì, non fa niente, tante persone ti dicono no, tre anni spaccati, due anni spaccati, master, no, cioè nel senso la tua vita, il tuo ritmo, ovvio non procrastinando perché non sono di quello, l'aspetto lì, però non è necessariamente nell'ordine prestabilito insomma, facendo diverse cose, aumentando le tue esperienze e arrivando a un obiettivo un po' più personale. Esatto, poi magari non hai condiviso questo dai CEO delle aziende, questo non te lo so dire, te lo dirò a breve, però… Beh, in teoria le competenze trasversali, no, anche quelle che si acquisiscono, non per farlo studiando sui libri, adesso vabbè la sto banalizzando, però sono sempre più richieste, ovviamente poi non so se a un certo punto della tua carriera dovrai, diciamo ti troverai a dover così arrivare a quel famoso compromesso, quindi non so, ecco non dico di, assolutamente non parlo di svenderti o vendere qualcosa che non sei tu, però effettivamente ha senso dire che poi dopo nel momento dei fatti magari bisognerà, ecco esatto, arrivare a dei compromessi, ecco per… Voi vivete il compromesso, voi avete alimentato i vostri interessi in questi anni? Guarda, io penso di sì, ecco, quindi mi ritengo abbastanza fortunata per questo, però… sì, poi magari ecco poi dopo a un certo punto uno si scorda, non lo so, anche io mi ritengo ancora giovani, anche se sono più vecchi… Soprattutto avendone la possibilità rincorrere questo tipo di soddisfazione personale credo sia fondamentale, è chiaro che a volte di necessità virtù, no? Ci sono condizioni della vita in cui… Ma io non sono il cumulatore Rolex, ho un G-Shock per andare in montagna e vivo autonomamente, cioè la mia famiglia non mi passa niente, se vogliamo dirlo così, e non lo fa da quando io ho 15 anni perché mi sono trasferito presto, per cui sono stato sempre autonomo, prima giocavo a calcio, poi ho smesso di giocare a calcio e quindi avere quel reddito lì e me ne sono creato un altro, quindi… e non è illegale, cioè è quello sui social, per cui bene o male non sono il tipo di persona che ti dice puoi fare tutto e nel frattempo viene mantenendo qualcun altro dietro. Ah no, certo, non va. Esatto. L'aglio, guardare l'aspetto umano di ogni professione ha il suo valore, quindi necessaria l'esperienza, essere polifunzionale è necessario. Io avevo visto una richiesta un po' particolare di Fulvio, che però io non so se sono io che non riesco, ma è scorrere le chance non nelle domande. Parlava di… ah ok, parlava di… del trasporto merci sostenibile, cioè chiedeva, vabbè, adesso chiedeva in particolare che cosa stiamo facendo noi, ma come camera di commercio in forma giovani ovviamente ben poco, però è un argomento… Non lo so, del trasporto merci che comunque in epoca di globalizzazione è una cosa… Resta uno dei punti, cioè un po' ambigui tra virgolette, perché se noi parliamo di efficientamento delle rotaie, ok, e poi però l'ultimo meglio, non sappiamo come farlo… Fulvio mi sembra l'avessi chiamato del ragazzo che ha fatto la domanda, ovviamente ponevano la domanda interessante, perché? Perché noi ad oggi viviamo ancora nei tracce… Gli automezzi sono quelli che vanno di più, eppure sono quelli che inquinano di meno, quindi io ora non so i dati specifici sull'inquinamento dovuto a quel trasporto lì, però un efficientamento da quel punto di vista dovrebbe esserci piano piano. Sono d'accordo con lui. Sì, sì, mi rendo conto che è una… diciamo un ramo che la sostenibilità sembra sempre una cosa così fatta e finita, in realtà riguarda tantissimi aspetti che non è che uno può toccare uno per uno, altrimenti sarebbe veramente omnisciente. Ma più che altro a volte va delegato alle competenze comunali, locali, questa cosa qua, perché se tu efficienti il trasporto sul rotaio e quindi del treno, che è il mezzo che inquina di meno, a quel punto però deve esserci un dialogo. E torniamo sempre lì all'esperto che si mette in mezzo alla migliazione. E quindi vediamo che è molto concreto. Potrebbe essere quello dell'ingegnere ambientale, in questo caso specifico, visto che abbiamo citato l'esempio. Un ingegnere ambientale potrebbe essere… Nel caso dei trasporti, no. C'è magari l'ingegnere dei materiali che ne sa più di me. Però se tu fai a fare una valutazione di impatto ambientale, quindi quello che c'è nell'inquinamento dei trasporti, dove in ambito di tratta tu fai il calcolo della tratta, di quanto inquini nella tratta, dove puoi andare a fare la sostituzione o l'implementazione del processo, lì ci metti un'azienda di comunicazione, di trasporti specializzata nell'ultimo miglio, allora lì sì che vai a fare. E può farlo un ingegnere. Lì in verità può farlo uno con la testa, cioè nel senso uno che è sveglio e in generale non c'è bisogno per forza… Al di là del titolo. Esatto. Io ti posso fare la valutazione di impatto ambientale che ha il trasporto su rotaia, sull'autocarro, quindi il camion, e dirti quale è il beneficio migliore, dove c'è il problema e lì lo andiamo a risolvere. Chiaro. Niente, sono… Allora quando si parla di istituzioni è un po' più complicata la questione, cioè io ho fatto un lavoro con Regione Lombardia e la situazione è stata molto più difficile ovviamente dell'azienda locale e diretta perché con le istituzioni… Certo, e tu dici quando si parla di pubblica amministrazione ci sono degli apparati burocratici che poi credo anche suddivisi, come dici tu, in varie competenze, no? Quello competa quello là, no? Quello sono noi, Regione, Regione. Quindi sì, è abbastanza intricato. Però come hai ben ricordato il dialogo è fondamentale, no? Quindi anche tra le varie parti, quindi che ci sia anche una figura che faccia questo tipo di mediazione sarà sempre più… Regione Lombardia esatto, io sono sicuro di questa cosiddetta qui. Ok Nicola, niente, abbiamo sporato di dieci minuti, è stata molto intensa come chiacchierata, almeno per me insomma… ripeto, molto grazie per la tua sincerità perché sei stato molto… così mi sei sembrata al di là di uno schermo però anche ribadendo il fatto che ci sono dei momenti di difficoltà appunto per dare anche una speranza però comunque una parola di conforto e empatia a chi appunto magari segue, ti segue o segue qualche altro influencer o… No, ma questo arriva sempre. Durante la sessione mi esce l'herpes e io non sto lì a cancellarla con Photoshop… Con i filtri… Esatto, è lì, resta lì, siamo tutti stressati, siamo tutti in sessione. Poi l'herpes da lavoro la lasciamo stare perché se no starei sempre con l'herpes nell'esterno però… Sì, è importante assolutamente anche trasmettere che non sono percorsi facili perché appunto i social hanno anche questa particolarità di mascherare, appunto di filtrare, rendere tutto molto più gradevole e semplice agli occhi di chi guarda, scorre il proprio feed e in realtà quando si parla concretamente di percorso di studi e di lavoro, insomma le difficoltà ci sono. Io parlo adesso a chi ci sta seguendo e chi regolirà questa intervista, credo che esperienze anche concrete con quella di Nicola possano essere anche d'aiuto. Le persone possono seguirti, no, giusto, ovviamente su Instagram. È quello il tuo canale, diciamo, principale di comunicazione se non sbaglio. Sì, sì, giusto, bravo. Poi ho iniziato a parlare anche su TikTok, ma è una cosa molto più semplice. Dove dedico il tempo è qui, perché purtroppo uno deve scegliere la sua piattaforma, deve essere realista sul tempo che ha a disposizione e quindi… Certo. Quindi seguite Nicola Lamberti e… no, vabbè, lo dico perché… dato che stiamo in chiusura, io ricordo che ci saranno altri tre appuntamenti più che altro contenuti che diffonderemo tra i canali di Informa Giovani e Camera di Commercio sulle competenze digitali, diciamo… e poi ricordo che esiste sempre questo… esistono questi report di Excelsior, del sistema Excelsior che ha fatto anche lì, no? Prima si parlava di previsioni dal punto di vista ambientale. Excelsior, grazie a dei sondaggi e delle interviste che sottopongono alle aziende, hanno elaborato una previsione di quelle che saranno i profili, le competenze e anche i percorsi di studi più richiesti per lavorare, appunto, essere… Come classificato l'ingegnere… Il tuo è tra le più… no, il tuo nello specifico… Parlo di competenze green e green jobs, quindi il tuo rientra nei green jobs, sono proprio tra quelle più richieste anche perché, appunto, non so… si parla tanto di transizione ecologica, no? E quindi si prevede che questa cosa, al di là del concetto astratto, avrà un impatto effettivo, no? Sulle aziende che dovranno adeguarsi a certi sistemi, a certe nuove regole, no? In questo ambito… Abbiamo messo sulla nostra vita… Esatto… Esatto… Certo… Certo… E come tu, quando si è giovani e si è portati a fare una determinata scelta, molto spesso si va un po' a sentimento, no? Perché vanno fatte questo tipo di esperienze, questo potrebbe essere uno strumento per dare un suggerimento in una direzione al posto di un'altra, ad esempio… Guarda, da un piccolo spoiler, però piano piano quello che volevo iniziare a fare, appunto, è mostrare un po' quello che studia l'ingegnere ambientale, così… anche perché le materie STEM, quelle scientifiche, poi vengono viste per i maschi in primis, tant'è che le donne nei corsi STEM sono molto inferiori in termini di quantità. Però tante volte uno non sa dove… a fare è anche mostrare quello che io ho studiato, quello che sto studiando e quello che si può fare come voi avete… come abbiamo fatto oggi, in sostanza, più o meno. Dai, bene, ci fa piacere che sia stato un po' l'inizio di questa nuova linea di comunicazione. C'è un'ultimista domanda, poi ti lasciamo andare. Scienze e tecnologie per la natura. Roberto chiede, cosa ne pensate… vabbè, ne pensi come università, se conosci, perché io personalmente non lo so… Scienze e tecnologie per la natura. Guarda, io ti dico, quando ho fatto, Roberto, quando ho fatto la mia scelta è stato ingegneria per l'ambiente e il territorio, geologia e scienze naturali. Credo che questo sia molto simile a scienze naturali. Poi quello che io ho scelto è ingegneria perché ingegneria è pratica, cioè nel senso domani te sei lì e puoi mettere giù le cose. Nelle altre parti, negli altri settori immagino che scienze naturali, quindi questo qui che hai detto te ci sarà un corso di ecologia in più rispetto a quello che ho fatto io, ok? Ci sarà magari qualcosa legato molto di più alla natura, piuttosto che alla costruzione, ok? Quindi scegli soltanto le due differenze. Da me a ingegneria studierai le costruzioni anche, tante, tante basi matematiche, tante, tante. Quindi se sei più portato per la matematica, vieni di qua, se sei leggermente meno portato per la matematica, ma ti piace tantissimo la natura, l'ecologia, il sistema, il modello pre-interpretatore, come si comportano gli animali di natura, come si comporta, come devono vivere, a che range, limiti di condizioni climatiche e ambientali possono vivere, allora vai dall'altra parte. Ok, Roberto, spero che tu sia all'ascolto per cogliere i suggerimenti. Niente, Nicola, io direi che possiamo salutarti e andare a mangiare qualcosa tutti e speriamo di rincrociarci in altre situazioni e un bocca al lupo per tutto e niente, continueremo a seguire. Viva il lupo, lo vedi lì? Viva il lupo, sì. Esatto, sì, lo vedo, bellissimo. Grazie mille, grazie Simone in forma giovane. Grazie a te. Grazie a te. Un piacere, ciao ragazzi. A presto. Ciao, grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.